e sul benessere. Questa sera parleremo anche del benessere degli animali, per cui abbiamo invitato questa sera esponenti di MSD Animal Health, azienda leader mondiale nel settore degli animali. Diamo il benvenuto al dottor Paolo Sani, amministratore delegato di MSD Animal Health. Benvenuto e buonasera. Da questa vittoria sono nate anche altre opportunità, immagino sfide. Volevo partire da un articolo che ho visto, ma più che altro. Sì, che già per una donna è un successo esagerato, poi ovvio i due o tre chili finali servono nel mantenimento. Assolutamente no. Allora, le persone devono sapere che investire, prima l'ho vista, la tossitura. Sì, no. Come è possibile questa cosa? Lo so. Ci fa vedere. Quindi lei dice in soli cinque minuti. Sei.